Sala operativa Convalidato Tutto il personale strike in loco D'accordo, sì signore Scientifica Convalidato Ramolo La scientifica vuole mostrare il lavoro sul tetto Vuoi che prepari la squadra tattica? No, prima vediamo di che si tratta D'accordo Convalidato Mi dispiace per quello che è successo a Fiori È stata una disgrazia terribile Grazie Non te la prendere, non è una cosa personale A me invece sembrava di sì No te la prendere, non è una cosa personale No te la prendere, non è una cosa personale No te la prendere, non è una cosa personale